Apertura insolita per la relazione sul bilancio consuntivo 2014 della Fondazione Fano Solidale che si è chiuso con un disavanzo di circa 9.800 euro. In prima pagina infatti è stata riportata la copia di un libretto della solidarietà che è stato estinto con lo scopo di far riflettere sulle difficoltà che la Fondazione incontra per reperire le risorse necessarie a sostenere le associazioni nelle loro iniziative. Il dato più eclatante dell'esercizio appena concluso è il calo dei depositi accesi dai soci che passano da oltre 970.000 nel 2013 a poco più di 810.000 nel 2014. I libretti ovviamente non fanno parte del nostro bilancio ma sono l'espressione della partecipazione popolare ad una serie di iniziative. C'è anche una tassa statale di 34,20 euro che incide su questi libretti. Sì, da due anni ci stiamo battendo a tutti i livelli per far sì che venga cassata questa tassa, una tassa iniqua, illogica, assolutamente stupida, con la quale tutti coloro che hanno depositi complessivamente superiori ai 5.000 euro pagano questa tassa di 34,20 euro. Una tassa che è maggiore del rendimento stesso degli interessi sul libretto. Si tratta di non prendere atto che queste persone svolgono un'opera assolutamente meritoria. A diminuire non sono stati solo i libretti ma anche le partecipazioni e le vacanze per la terza età organizzate in 5 località di montagna. A fare una riflessione in merito è stato il consigliere Curina che ha illustrato i relativi dati. Nel 2008 erano tra i 400 e i 500 gli anziani partecipanti, mentre nel 2014 appena 140 per l'anno in corso. Invece sono scesi ancora a 134. Grande successo invece per i corsi di informatica. Da 4 anni a questa parte sono state 400 le persone che li hanno frequentati. E' quello che va per la maggiore il corso sui social network. Cresce infatti l'interesse e la voglia di tenersi in contatto con amici e familiari da altre parti d'Italia o del mondo. Un altro dato che fa riflettere invece la diminuzione delle richieste di microcredito. In un momento di crisi e di crisi accentuata, di crisi in crescita, le richieste di finanziamento sono diminuite. Noi non sappiamo quali siano le cause. Certamente non che è venuto meno il bisogno delle famiglie. Secondo me è che la nostra attività viene poco pubblicizzata. Cioè la stampa non parla mai di noi, di questa forma di intervento altamente diciamo a favore dei più bisognosi. Perché prestare soldi senza interessi credo che ci siano pochi in Italia che lo fanno. Sicuramente la gente forse non sa quali sono le possibilità del nostro intervento o che noi esistiamo addirittura.